Ciao a tutti, vi dobbiamo dire una cosa importantissima, ricordate quel famoso provvedimento che ha zerato i risparmi a oltre 130 mila persone, cancellando i risparmi di una vita, costruiti con sacrifici, sudore? Ebbene, quel provvedimento è illegittimo, il governo non poteva metterlo in atto, Banca d'Italia non poteva zerare i risparmi di questi obbligazionisti, perché? Abbiamo trovato il documento che avvia la risoluzione di queste 4 banche, Banca Marche, Cari Ferrara, Carichieti e Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio. Ebbene, Banca d'Italia, giustamente, come voi sapete, si può muovere solo ai sensi della legge, solo rispettando delle leggi che sono già in vigore, che si possono applicare. Nel documento della risoluzione però troviamo un vulnus. Quando si parla di riduzione integrale delle riserve del capitale rappresentato da azioni e obbligazioni, Banca d'Italia richiama un articolo, richiama l'articolo 52 del decreto che recepisce il Beilin in Italia, il 180 del 2015. Siamo andati a verificare però una cosa, come voi sapete per ogni decreto poi serve un'entrata in vigore, nell'articolo che parla dell'entrata in vigore del Beilin però troviamo una doppia entrata in vigore, ovvero il decreto entra tutto in vigore il giorno dopo del 16 novembre, quindi il giorno della pubblicazione. Mentre la parte che riguarda il Beilin, quindi anche quell'articolo 52 che Banca d'Italia richiama, che secondo Banca d'Italia gli permette di azzerare azioni e obbligazioni, sarebbe entrato in vigore solo il 1 gennaio 2016, eravamo al 21 novembre 2015, quindi loro hanno utilizzato un articolo che ancora non era in vigore. Cosa significa questo? Significa che se domani facciamo un decreto, questo governo mette in piedi un decreto e dice metto in piedi una liquida straordinaria sull'Imu del 50% del valore, una follia, però è applicabile dal 2018, loro non possono applicarla nel 2017. Credo che questa sia una cosa che tutti riusciamo a capire, perché in questo Paese si può agire solo secondo la legge, quindi noi vi denuncieremo ovunque, vi chiediamo di condividere queste informazioni e anche voi, i diretti risparmiatori, chi ha un interesse diretto di ricorrere al TAR, di denunciare ovunque, di preparare esposti, perché quel decreto era illegittimo, i vostri risparmi non dovevano essere azzerati, vi difenderemo ovunque, abbiamo bisogno di voi, stiamo uniti, stiamo tutti insieme, combattiamoli e mandiamoli a casa, mandiamoli a casa, hanno distrutto un Paese. Ciao a tutti!